Amici ascoltatori, allegria! Mike, da grande professionista qual'era, apprezzava sicuramente il lavoro dei suoi colleghi. Poi Baglioni non è nella sua veste di presentatore, però mi sembra che se la sia cavata veramente molto bene. Solo un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore. A me piacciono le zeppelin, pare che facciano un pezzo nuovo. Io li voto subito. No, sono più orientato da quella parte lì, per cui il festival un po' lo seguo, un po' no. E per te chi ti piace di più? Michel Unziger. Anche a te Michel Unziger? Sì. L'unica cosa che mi chiedo è come mai Michel non abbia vestito trussardi. Forse aspetta l'ultima serata di sabato, staremo a vedere. E tu come ti vesti invece? Io mi vesto così, con la mia stilista preferita. Ma come ti vesti? Come lo vede il festival? Eh, beh, parecchio bello. C'è molta confusione, quindi anche la prima volta che vengo qui, però è piacevole tutto questo. Sono anche abbastanza emozionato, quindi... Siamo proprio di fronte alla statua di un noto conduttore. Ha un ricordo di questo conduttore, oppure come lo vede questo conduttore? Eh, manca parecchio in tv, perché comunque io lo seguivo molto, soprattutto con Fiorello, però ormai è andato, ma lo ricordiamo sempre, assolutamente. È sempre stata una parte anche della mia infanzia. Ederci, allegria! Vici ascoltatori, allegria!